Messaggio della Regina del Rosario della Pace a Edson Glauber, 6 febbraio 2021 La pace, miei figli amati, la pace! Figli miei, io, vostra madre, vi amo e vengo per donare tante grazie celesti a voi e alle vostre famiglie. Pregate con amore e con cuore il mio rosario e non vi lasciate turbare da nessuna cosa di questo mondo. Dio è con voi e vi benedice con il suo amore e con la sua pace. Consegnate i vostri cuori al Signore e Lui vi darà consolazione, fede e vita. Lui è la vita eterna e la vita che Lui vi dà è quella vera e non la falsa che vogliono concedervi in questi tempi di tenebre e di menzogne. Lottate contro ogni male facendo la volontà del Signore e non ve ne pentirete. Quanto più le prove aumenteranno, tanto più Dio sarà al vostro fianco con il suo amore e con la sua grazia. Vi benedico e vi copro con il mio manto immacolato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio della Regina del Rosario e della Pace a Edson Glauber, 7 febbraio 2021 La pace, miei figli amati, la pace. Figli miei, io, vostra madre, vengo dal cielo per riempirvi di forza e di coraggio. Per avere questa forza e questo coraggio, riempite i vostri cuori delle parole di mio figlio. Le parole di mio figlio sono vita e verità e curano i vostri cuori da ogni tristezza, oppressione e angoscia. Non vi lasciate vincere dalle menzogne e dalle seduzioni di Satana. Dio è la vostra pace, figli miei, e dove mio figlio entra con il suo amore, tutte le tenebre di Satana sono vinte e distrutte. Unitevi a mio figlio. Date a lui i vostri cuori e il vostro amore. E lui, unito a tutti voi, vi darà la pace e la consolazione eterna. Io vi amo e vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.